ciao a tutti benvenuti in un video dedicato a barbie il meraviglioso mondo di barbie quest'anno barbie ha compiuto 60 anni ed è qui per festeggiare il suo sessantissimo anniversario la matte per il compleanno di barbie ha creato queste bellissime bambole abbiamo lei che è una barbie da collezione mentre queste centrali sono più classiche ma comunque fanno parte della collezione sessantissimo anniversario io aprirò soltanto la centrale però voglio farvi vedere anche queste due che sono molto belle allora queste due in effetti indossano lo stesso abito il loro abito è a righe bianco nero per ricordare la nostra prima barbie che portava il costume bianco e nero abbiamo qui la classica barbie capelli biondi e occhi azzurri qui abbiamo invece una barbie con pelle scura e capelli scuri anche lei molto bella ok ed eccola qui la nostra meravigliosa barbie adesso la tolgo dalla scatola così la vediamo nei dettagli ok 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 A presto. sta molto attaccata questa barbie mamma mia poverina si sta spettinando tutta ne hanno cuscito i capelli sopra la plastica è la cosa più ingredita un problema mamma mia eccola qua sono e salva come la barbie allora voglio farvi notare che nella scatola c'è anche la base quindi c'è il filistallo per poterla mettere per bene ok andiamo allora il viso è molto bello questo rossetto rosso con gli occhi azzurri ombretto celeste e porta questi ricchini a cerchio molto belli c'è un viso molto bello i capelli sono bianchi non sono biondi sono bianchi i capelli con questa coda di cavallo la lunghezza così media l'abito meraviglioso e bianco e argento glitterato davvero una bellissima barbie ha lo smalto rosso qui porta l'etichetta nel 60esimo anniversario io ce la rimangono gliela tolgo ovviamente voglio farvi vedere le scarpe queste sono le gambe ovviamente di barbie molto magra certo e lei indossa questi sandali neri col tacco sui piedi anche lo smalto rosso come sulle mani bellissima veramente molto molto bella guardando la dietro sembra una sposa spettacolare io non c'è non so che dire è così bella che è meglio guardarla che ascoltare me bellissimo ed eccola qui queste barbie 60esimo anniversario poi dopo le apro la base così la metto con la base ovviamente perché così casca io spero che questo video vi sia piaciuto vi saluto un bacione e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.